musica 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 cacca sei di parola Andrea ale 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 musica bello come? in giro anche la gente è forte tipo Matteo e il fratello è avanti forza e coraggio alè 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 sotto la pioggia alè alè forza e coraggio alè alè sotto la pioggia un po' di pioggia dai che è finita dai che è finita alè alè allora ciao ciao le dura alè 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 tutto in famiglia dai 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 che è quasi finita si va per dire per girare un attimino ecco per dar morale quando dico è quasi finita è un po' così come dire alè 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 forza alè 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 forza alè 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 Anna Aldo ma cosa ci fate qua? sì piставля alè alè Grazie a tutti